Musica Vicino lontano premia Congo del belga Van Reibrook, l'Africa come l'avrebbe raccontata Terzani. Congo è il libro che Tiziano Terzani avrebbe voluto scrivere. Così la moglie del giornalista e scrittore scomparso 11 anni fa ha motivato la scelta della giuria da lei presieduta di assegnare il premio letterario internazionale Tiziano Terzani al giornalista belga David Van Reibrook per il suo reportage sul grande paese africano. La consegna del premio questa sera alle 20.45 al Teatro Nuovo di Udine, monumento clou del festival Vicino Lontano. Sentiamo il servizio di Marinella Chirico. Mai vivere vigliacamente una vita normale di cui avere vergogna. Lo diceva Tiziano Terzani, il grande giornalista e scrittore toscano scomparso nel 2004. Il premio letterario internazionale a lui dedicato nell'ambito della rassegna udinese vicino lontano si conferma preziosa eredità di questo maestro di vita. A raccoglierla quest'anno un giovane giornalista, David Van Reibrook, 43 anni, belga, con il suo sorprendente reportage Congo. 500.000 copie già vendute in tutto il mondo, 700 pagine sul grande paese africano, terra di infiniti massacri e di immense ricchezze. Forse la terra più sfruttata al mondo, raccontata dentro ai fatti, con potenza narrativa e talento giornalistico. E' stato un lungo lavoro di ricerca, duro e anche pericoloso, tra bambini soldato e donne oggetto di ogni tipo di violenze. Un libro dove ho voluto far parlare le persone, con le speranze, le storie, i ricordi e i sogni dei congolesi. Gente straordinaria. Congo nasce dopo 12 viaggi e oltre 500 interviste sul posto. Sono onoratissimo di ricevere questo premio. Terzani è sempre stato per me un modello e un maestro. Un libro scritto con la forza della verità, avrebbe detto Terzani, come conferma la moglie, presidente della giuria del premio, Angela Staude Terzani. La forza della verità sta nell'essere il frutto di lunghe ricerche, di grande lavoro. Questa è una cosa in sé stessa, oggi non più molto usuale, perché siamo abituati a servirci di internet. Insomma è un libro che direi molto giusto, molto giusto e in questo estremamente convincente. Per cui la verità, la forza della verità è nell'essere vera.